Buonasera, buonasera a tutti ed eccoci tornati dopo la pausa estiva con gli appuntamenti online dei webinar dell'Osservatorio Euro Mediterraneo Mar Nero. Questo nuovo strumento di lavoro è voluto fortemente da FISM e Donlus e che ha già raggiunto quasi un anno di attività di questo tipo che stiamo svolgendo. Già ottimi risultati e un bel lavoro di iniziative sia in ambito divulgativo che accademico. Fiore all'occhiello sicuramente delle tante attività che l'Osservatorio svolge ci sono appunto questi cicli di webinar online. Abbiamo trattato la Blue Economy, il rapporto con la stampa, il rapporto con le aziende. Ci siamo occupati e ci occuperemo di situazioni relative a città vivibili o invivibili. Probabilmente faremo un appuntamento su Venezia e adesso per restare appunto fortemente legati all'attualità abbiamo scelto di dedicare questo primo incontro appunto dopo l'estate all'inquinamento, alla qualità dell'aria. Abbiamo scelto proprio di intitolarlo Parliamo di Aria Pulita, provocatoriamente ci sarebbe piaciuto chiamarlo Facciamo Aria Pulita ed è un'idea che ci è venuta dopo aver visto il toolkit di Heal, questo appunto strumento che si è prefisso, è nato appunto per fornire le indicazioni relative a necessarie per poter parlare e comunicare correttamente i dati scientifici, la necessità di comunicare appunto in ambito anche di divulgazione sui dati ed è uno strumento che si apre al pubblico anche appunto alla grande divulgazione, è destinato all'ONG, agli enti, alle istituzioni ed è stato appunto lo spunto per poterne parlare, per poter capire come effettivamente bisogna gestire la comunicazione anche in tempi di fake news, come poter organizzare il lavoro e soprattutto come instaurare un ponte tra gli esperti e i cittadini, quindi appunto come alimentare e dar vita ad una corretta citizen science. Io sono molto felice di poter moderare questo incontro di oggi che prevede insomma l'intervento di una serie di importanti relatori che sono contenta insieme alla mia collega Vira Chinellato che introdurrà l'evento di aver messo assieme. Ve li presento brevemente e poi lascio la parola appunto direttamente a loro. Oltre appunto alla mia collega Fismed Vera avremo il dottor Marco Talluri, giornalista ambientale, tra l'altro dobbiamo a lui e anche alla sua newsletter tante idee che ci vengono, quindi grazie di essere qui con noi. Poi abbiamo il dottor Francesco Romizzi dell'ISD, responsabile comunicazione. Abbiamo il dottor Matteo Caldera, ricercatore e ingegnere NEA. La dottoressa Elena Del Pup, ricercatrice in biotecnologie agrarie e fondatrice di The Good Scientist, una bellissima realtà di cui poi ci piacerebbe magari avere qualche riferimento. E poi ci raggiungerà la dottoressa Maria Chiara Pastore, anzi la professoressa, che è docente del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, direttrice del Dipartimento di Ricerca del Studio Boeri, dell'architetto Boeri, ed è il referente proprio per il progetto Parco Italia. Quindi non voglio togliere spazio ai relatori, lascio la parola alla mia collega Vera Chinellato che introdurrà questo evento e la ringrazio di affiancarmi sempre in queste nostre avventure. Grazie a te, Ginevra. Se mi sentite tutti, intanto parto con il condividere il mio schermo, così. Eccoci qui. Allora, oggi per introdurre l'argomento di oggi, cioè la divulgazione dei dati scientifici, in questo caso nell'ambito dell'inquinamento dell'aria, porto l'esempio della campagna di mobilitazione lanciata dall'ONU per diffondere consapevolezza e per spingere il pubblico a prendere azioni. Azioni che sono mirate a condividere il programma e gli obiettivi dell'ONU verso un progresso sostenibile a livello globale, che ci porterà a parlare anche della City Science, anche durante questo incontro, e quindi del ruolo dei cittadini, ma anche dei decisori politici nel raccogliere le informazioni scientifiche e sui metodi migliori per divulgarle e creare una partecipazione pubblica. La campagna lanciata dall'ONU è appunto volta a richiamare l'attenzione del pubblico e a chiedere azioni individuali, globali, per l'implementazione di questi obiettivi che vediamo e di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e è stata lanciata in vista del vertice delle Nazioni Unite che si è tenuto a New York il 18-19 settembre. Come sappiamo, gli effetti dei cambiamenti pneumatici, gli strascichi del Covid, i conflitti, la recessione economica stanno un po' mettendo a rischio il raggiungimento degli obiettivi che si è posto l'ONU con scadenza 2030. È perciò veramente molto, molto importante riuscire a mobilitare il pubblico, a sensibilizzarlo per riportare, diciamo, il mondo sulla pista giusta, che è quello del raggiungimento dei 17 obiettivi e a cui potremo giungere un diciottesimo, come propone la Global Alliance, di cui ha parlato anche il collega Talluri in un suo articolo, che chiama comunicazione responsabile, un obiettivo che servirebbe a promuovere il dialogo sui temi di riferimento, combattere le fake news, informare, educare i cittadini, responsabilizzarli, insomma, al fine di coinvolgere più attori e soggetti possibili. Questo è un po' l'obiettivo della campagna che ha lanciato l'ONU. Riporto anche una frase che ha detto la direttrice delle campagne del Dipartimento delle Nazioni Unite, Campagne per le Comunicazioni Globali, Nanette Brun, che ha dichiarato la nostra speranza è che i decisori politici e i singoli cittadini si sentano ispirati a partecipare alla conversazione e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi con nuova determinazione e ambizione. Questo penso che racchiude un po' lo scopo. La campagna si chiama Act Now, cioè Agisci Adesso, e si è appunto prefissata di sensibilizzare, mobilitare l'azione individuale in materia di cambiamenti climatici e sostenibilità, come lo fa tramite un'applicazione da scaricare, quindi utilizzando una piattaforma digitale e dinamica di comunicazione e informazioni. L'app si chiama A-Word ed è un componente fondamentale di questa campagna appunto è l'invito ai singoli cittadini ad agire per gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, dall'uso dei trasporti ad azioni che ci coinvolgono nella quotidianità. La piattaforma elenca i passi che ognuno di noi può compiere per accelerare il progresso degli obiettivi e creare vite migliori in un pianeta più sano per tutti. Quindi ognuno può contribuire a limitare i cambiamenti climatici e i suoi impatti, compiendo scelte che hanno effetti meno nocivi sull'ambiente e che aiutano a contrastare la crisi climatica. Tra le azioni che ognuno di noi può intraprendere la piattaforma ne mostra una decina come ambiti generali, le possiamo vedere un po' qua, spaziano dai trasporti ai viaggi alle scelte alimentari di ogni giorno al fatto di riutilizzare senza comprare qualcosa di nuovo e mostro altri, fino a condividere diciamo ciò che viene imparato e a diffondere le informazioni il più possibile. Ma andiamo, addentriamoci un po' di più sull'applicazione e vediamo com'è composta. Mostro un esempio della mia pagina. Nella pagina home dell'applicazione possiamo vedere appunto una scaletta di azioni che dobbiamo iniziare a fare per cominciare ad utilizzare la piattaforma. in modo corretto, quindi creare un account, completare un episodio, iniziare a calcolare il proprio footprint, quindi il proprio impatto ecologico e che poi ritroveremo nella pagina profilo insieme ai nostri progressi e risparmi di CO2 che avremo fatto con le nostre azioni. Quindi questo è l'inizio. Se poi andiamo avanti, ad esempio nella sezione percorsi si trovano una serie di appunto percorsi ad episodi che sono dedicati ognuno ad un tema diverso. Sono da leggere e da completare rispondendo a delle domande. Invece nella pagina azioni sono presenti azioni singole e serie di azioni suggerite da completare. Nel momento in cui noi svolgiamo una di queste azioni o una di queste serie di azioni, possiamo poi registrare quello che facciamo nei vari ambiti che potrebbe essere l'ambito energetico, nel cibo, degli acquisti, la mobilità, rifiuti e così via e si accumulano dei punti che permettono appunto di aumentare il proprio livello che corrisponde quindi ai traguardi che raggiungiamo. Nella sezione community entra in gioco invece la competizione perché aziende e associazioni possono creare dei gruppi, gruppi che possano interagire con altri gruppi, confrontarsi, lanciare sfide, con o senza premi e organizzare anche degli eventi. Infine il sito ufficiale invece online presenta anche dei giochi e delle sfide per i più piccoli, quindi per i bambini, per coinvolgere un po' tutte le fasce di età. Io prima di lasciare di nuovo la parola a Ginevra condivido infine il QR code di questa applicazione nel caso in cui non la conosceste prima e vi abbia incuriosito un pochino e volete scaricarla, potete farlo da qui e appunto lascio la parola a Ginevra che introdurrà appunto il nostro prossimo relatore e che ci permetterà appunto di approfondire un po' più in dettaglio l'argomento di oggi e che comunque ho voluto introdurre con un'iniziativa che parla anche della scienza del conveggemento dei cittadini. Grazie a tutti. Grazie Vera, grazie a te. Appunto in apertura parlavo proprio della scienza dei cittadini quindi sono ben contenta che il tuo intervento si sia concentrato su questo. Sono certa che i relatori, i nostri prossimi relatori torneranno anche loro in qualche modo ad incrociare questo segmento discorsivo. Intanto io saluto la professoressa Pastore che ci ha raggiunto, grazie. Grazie. Ho avuto modo di introdurla prima però volevo salutarla appunto ora che ci ha raggiunto. Grazie mille. Ora lascio la parola al dottor Marco Talluri, giornalista e comunicatore ambientale. Ho nominato prima la sua newsletter che è veramente una fonte di notizie molto molto interessante, cambiante non solo ma insomma lasciamo che lui ci racconti un pochino di questo toolkit e di ciò che ritiene opportuno. Grazie intanto per essere con noi. Grazie a voi per l'invito e buonasera a tutte e tutti. La mia presentazione è un po' lunga per la verità ma di solito faccio in questo modo. La faccio più lunga in modo tale di lasciarla a disposizione e poi vado molto veloce. Nelle mie esperienze sono stato responsabile della comunicazione dell'azienda di trasporto di Firenze per una quindicina d'anni poi responsabile della comunicazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Toscana e coordinatore dei comunicatori. Da due anni sono in pensione ma siccome non riesco a stare fermo Francesco mi conosce, lo sa bene nel momento in cui sono andato in pensione ho attivato questo blog ambientinonsolo.com e però continuo a fare varie attività collaboro con l'ufficio comunicazione appunto di ISDE, ASSOARPA, Kyoto Club tra l'altro piccolo spot abbiamo pubblicato in Kyoto Club e Clean Cities Campaign proprio nei giorni scorsi un osservatorio sulla mobilità sostenibile su 18 grandi città italiane dove trovate tutti insieme i dati sulla mobilità sostenibile quindi trasporto pubblico, mobilità ciclabile mobilità condivisa, regolazione del traffico di tutte queste città di tutti i capoluoghi di città metropolitana le città net zero e le notizie aggiornate quotidianamente credo che sia una risorsa importante per chi anche si occupa di aria oltre che di mobilità perché c'è una stretta connessione fra mobilità e aria parlavo di dati il mio sforzo nel mio blog è quello di partire sempre dai dati si parlava di dati scientifici di dati attendibili giustamente diceva la nostra moderatrice bisogna rifuggere dalle fake news delle volte per farlo bisognerebbe non stare a sentire il telegiornale perché dico francamente anche ieri mi venivano le bolle a sentire alcune dichiarazioni a proposito per l'appunto di mobilità e di effetto sulla qualità dell'aria ma lasciamo perdere qui ci sono tutti i miei riferimenti social e non solo per eventuali anche se c'è qualcuno degli ascoltatori che venisse dei dubbi delle domande da fare l'abitudine in 44 anni di lavoro di cercare di rispondere sempre a tutti qualche elemento di inquadramento sulla proposito di qualità dell'aria si parla di dati la rete di monitoraggio della qualità dell'aria che segue le indicazioni della direttiva europea e poi della normativa italiana direttiva europea che sappiamo non so se Francesco poi ne parlerà è in fase di revisione è un momento estremamente delicato e importante il prevede le modalità con cui vengono e viene realizzato il monitoraggio che in Italia è realizzato dal sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente in sostanza le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le varie ARPA sulla base appunto della normativa e in Italia complessivamente in Europa ci sono circa 3500 stazioni di monitoraggio 600 delle quali in Italia quindi un numero consistente che sono classificate secondo le varie tipologie di fondo traffico industriale urbana suburbana e rurale che indicano situazioni di esposizione diversa cominciamo a parlare dei dati questi sono ad esempio le stazioni di monitoraggio del biossido di azoto che sono quelle presenti in maggior numero per varie tipologie in tutti i paesi dell'Unione Europea come vedete in Italia ce ne sono appunto 562 in questo caso con i dati poi ritornerò su questi aspetti però le nostre organizzatrici dell'incontro sollecitavano questo diciamo riferimento alla citizen science tra l'altro proprio in questi giorni è in corso il congresso europeo della citizen science e il quindi la parte questa è la definizione diciamo ufficiale citizen science è la possibilità di partecipazione di reti o gruppi organizzati alla produzione di informazioni allora abbiamo detto da una parte abbiamo la rete ufficiale che fornisce dati ufficiali con mezzi molto complessi anche costosi dall'altra abbiamo i cittadini perché è importante in qualche modo un coinvolgimento dei cittadini per il monitoraggio qualcuno potrebbe qualche volta viene interpretato come sfiducia nei confronti degli organi di controllo deputati a questo tipo di attività ecco il credo che sia importante ribadire invece che la stessa agenzia europea per l'ambiente questo documento di qualche anno fa che faceva una panoramica dei dispositivi a basso costo disponibili per il coinvolgimento appunto dei cittadini e attività di monitoraggio dispositivi che ovviamente hanno dei vantaggi e degli svantaggi rispetto alle centraline alle stazioni di monitoraggio fisse delle agenzie ambientali ci sono dei limiti ma devo dire anche per esperienza diretta sono estremamente importanti perché permettono un coinvolgimento e anche una come dire una sensibilizzazione forte da parte nei confronti dei cittadini perché l'inquinamento dell'aria forse perché non si vede forse perché delle volte appunto c'è chi dichiara che non è importante non porta spesso a comportamenti conseguenti da parte dei cittadini è un po' ignorato e quindi sono importanti iniziative come queste che cito di monitoraggio della qualità dell'aria e vorrei anche segnalare che lo stesso Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente cioè la rete delle agenzie ambientali ha formalmente e ufficialmente approvato qualche anno fa un decalogo per la Citizen Science cioè c'è un riconoscimento di una disponibilità a realizzare iniziative in collaborazione con i cittadini di Citizen Science e quindi anche di monitoraggio della qualità dell'aria è importante proprio per dire che non c'è una realtà scientifica ufficiale istituzionale arroccata in una torre d'avorio e ci sono dei cittadini magari arrabbiati che si fanno propri strumenti di monitoraggio c'è la disponibilità e secondo me questa è la soluzione ottimale di collaborazione sapendo bene che cosa si va a ricercare qui semplicemente riportavo alcuni esempi poi ci sono anche i link per ritrovarli ad esempio questa è un'iniziativa fatta in Val d'Aosta proprio con microsensori personali di polveri oppure questa è un'iniziativa appunto che abbiamo realizzata come sistema nazionale in tutta Italia in molte regioni in Italia per esempio per il monitoraggio del biossido d'azoto nelle scuole ecco io all'epoca ancora lavoravo sono andato nella scuola media la Carducci di Firenze che si trova davanti all'unica centralina di monitoraggio della Toscana che supera regolarmente ancora i limiti per il biossido di azoto ecco quando siamo andati in classe a parlare della qualità dell'aria nelle insegnanti nei ragazzi nei bambini avevano la minima consapevolezza del fatto che proprio lì davanti c'era questa e quindi loro sostanzialmente respiravano l'aria in termini di biossido d'azoto peggiore di tutta la Toscana il fatto di coinvolgerli di mettere dei dispositivi per la raccolta del biossido di azoto e poi presentare i risultati è stato secondo me un'occasione estremamente importante poi bambini ragazzi questi sono alcuni dei post fatti dalle varie licenzie in quell'occasione sono stati veramente interessati e coinvolti il ecco il per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell'aria dicevo ogni agenzia ha il suo sistema di presentazione dei dati non esiste ancora un unico servizio unificato se non per le previsioni di qualità dell'aria tra l'altro da non moltissimo tempo che è disponibile so che i miei ex colleghi stanno lavorando a un portale unico a livello nazionale ma insomma ci sono un sacco di problemi tecnici organizzativi informatici per per fare questa cosa qui riporto un esempio di presentazione dei dati non per campanilismo perché è quello dell'ARPA toscana ma perché credo che effettivamente sia un esempio positivo di modalità di presentazione dei dati dove ci sono le informazioni per quanto riguarda le 37 stazioni di monitoraggio dove ogni giorno viene pubblicato un bollettino quotidiano per i vari inquinanti monitorati evidenziando i problemi che ci sono vengono presentati dati in tempo reale per quanto riguarda gli inquinanti cassosi in particolare il biossido di azoto e su questo potremmo tornare perché questi grafici forniscano tante informazioni e tante indicazioni questa è esattamente la centralina di cui vi parlavo prima davanti alla scuola Farducci nel Viale Gramsci a Firenze ad esempio poi ci sono disponibili l'andamento giornaliero per singolo inquinante e è possibile andare a ricercare dati di tutti i giorni dell'ultimo anno e poi sono anche disponibili i dati con gli indicatori annui per singolo inquinante per zona per singola stazione dal 2007 all'anno scorso poi ogni anno ci sono i dati in linea e poi vengono le valutazioni per quanto riguarda l'anno precedente i dati poi sono anche disponibili su un'app che può essere scaricata sia per Android che per iOS e per i dati poi vengono presentati nell'annuario annuale segnalo ad esempio che questo è un tema caro a ISDE come sa bene Francesco perché alcune sezioni ISDE polemizzano qualche ARPA vengono anche evidenziati il confronto con i valori raccomandati dall'OMS come da non superare che come sappiamo sono ben diversi e qui sarebbe interessante parlare del ragionamento della nuova direttiva in corso di di confronto fra Parlamento Commissione e Consiglio una sottolineatura sono anche disponibili tutti i dati aperti cioè tutti i dati di cui abbiamo parlato sono disponibili in formato aperto e anche questo è una cosa che devo dire ho imparato soprattutto dopo essere uscito da ARPAT quanto è importante perché nel mio lavoro per il blog va dalla ricerca di dati da riutilizzare da ripresentare da rielaborare avere dei dati aperti facilmente disponibili è veramente fondamentale qui ci sono vari ricercatori e me lo potrebbero dire facilmente e questi per esempio sono rielaborazioni che ho fatto io riutilizzando proprio i dati scaricati dal sito dell'ARPAT dove si evidenziano appunto una serie di problemi ecco l'altra cosa però che non esiste dicevo un sito italiano che presenta tutti i dati del monitoraggio insieme però lo fa l'agenzia europea l'agenzia europea per l'ambiente mette a disposizione una banca dati splendida per i dati di tutta Europa ci sono disponibili i dati di tutte le stazioni di monitoraggio europee tra l'altro dalla fine degli anni 90 a quelli recenti anche in corso d'anno e per l'appunto io ho lavorato spesso con questi dati è possibile andare per dire a analizzare i dati per esempio sempre il biossido di azoto è possibile ho fatto questo confronto delle stazioni di monitoraggio in Italia fra il 2012 e il 2021 ad esempio confrontandoli con le linee guida dell'OMS con i limiti di legge con la proposta iniziale della commissione europea è possibile perfino avere i dati vedete a sinistra delle singole stazioni di monitoraggio di tutta Europa ora qui ci sono quelle italiane ma è possibile andare a vedere il quadro delle stazioni di Parigi piuttosto di Berlino piuttosto che di un'altra città l'agenzia europea mette anche a disposizione un indice europeo della qualità dell'aria cioè una valutazione sui cinque principali inquinanti monitorati e visualizzando evidenziando anche in tempo reale la possibilità lo stato della qualità dell'aria in tutte le città europee questa ad esempio è una visualizzazione quando l'ho scaricata del 16 di agosto di quest'anno della qualità dell'aria in tutte le città europee segnala fra l'altro i colori sono legati all'inquinante che dà i risultati peggiori l'agenzia europea mette anche a disposizione una app con le stesse informazioni presenti nel sito appunto dell'indice europeo della qualità dell'aria facilmente consultabile con i dati di tutte le centraline qui ad esempio c'è quella sempre di Viale Gramsci a Firenze quindi evidentemente l'agenzia europea fornisce una grande molle di informazioni penso di essere stata abbastanza lunga quindi mi fermo ci sarebbero tantissime cose di cui poter riparlare però magari nel corso del dibattito sono disponibile a rispondere a domande a fare ulteriori puntualizzazioni grazie grazie dottor Talluni sicuramente c'è molto altro di cui parlare però ecco sono certa che nel corso del dibattito usciranno fuori diverse sollecitazioni potremmo tornare sul tema però mi fa molto piacere che si siano toccati appunto i due argomenti di cui abbiamo parlato io e la dottoressa Chinellato in entrata in apertura appunto alla citizen science e la questione del come fronteggiare le fake news avere a che fare finalmente con i dati effettivi come potersi muovere anche al di fuori della comunicazione canonica perché dobbiamo comunque imparare a conoscere i dati e sapere dove andarli a cercare quindi anche il riferimento appunto all'app dell'agenzia europea è molto interessante quindi grazie spero di poter fornire anche la sua presentazione in modo tale che chi vorrà poi appunto potrà trovare tutti questi riferimenti e adesso a completamento visto che è stato citato più volte chiamo Francesco Romizzi di ISDE a intervenire e lo ringrazio ancora per essere con noi grazie a te Ginevra buonasera a tutti coloro che ci seguono online tre parole non tanto su di me ma su chi rappresento rappresento l'associazione italiana medici per l'ambiente ISDE International Society Doctor for Environment che è diciamo l'unica associazione italiana ma direi anche l'unica associazione in Europa perché è nata appunto in Italia poi si è espansa anche in altri paesi europei di medici volontari che si occupano appunto di questioni ambientali di fatto della correlazione tra ambiente tra ambiente e salute ora io non ho una presentazione Ginevra quindi magari poi proietto il toolkit perché l'altra cosa che volevo dire in premessa era come giustamente ha detto Ginevra all'inizio di questo incontro Hill che sarebbe un consorzio il consorzio europeo delle associazioni degli enti che si occupano di ambiente e salute il Stupper Health and Environment Alliance l'alleanza appunto di coloro che si occupano di ambiente e salute ha prodotto a inizio duemilaventitré a inizio di quest'anno un toolkit che noi abbiamo tradotto in italiano e provato a diffondere appunto in Italia su rivolto principalmente a coloro che fanno comunicazione ma non solo a noi giornalisti diciamo a chi fa comunicazione quotidianamente ma anche a chi appunto a chi ha svolge attività comunque di comunicazione perché sappiamo quanto sono importanti oggi non solo chi lo fa di professione ma anche chi appunto i famosi chi nei social network svolge appunto manda messaggi e messaggi che spesso questo poi si apre un altro capitolo che oggi non tocchiamo che però svolge comunque forse ancora di più purtroppo aggiungo io in alcuni casi funzione di informazione e di comunicazione di un messaggio con questo toolkit noi abbiamo voluto provare a dare degli strumenti molto operativi su come con il topic con un focus a uno dei problemi più importanti legati all'ambiente e alla salute cioè a quello dell'inquinamento dell'aria e le sue ricadute appunto sulla salute dell'uomo un toolkit dicevo che prova a dare un documento anche semplice facile che prova a dare delle indicazioni operative su come si può comunicare efficacemente questa problematica come la si può comunicare e nei confronti dei cittadini e delle cittadine e nei confronti dei policy maker dei politici perché poi possiamo dirlo senza problemi e senza populismi lungi da me esserlo spesso su queste tematiche c'è un'ignoranza diffusa inevitabilmente da parte dei cittadini e delle cittadine ma c'è anche un'ignoranza non conoscenza anche da parte di coloro che ci rappresentano nelle istituzioni locali nazionali ed europee quindi comunicare bene le problematiche legate all'inquinamento dell'aria è per noi un elemento centrale è centrale anche perché un dato velocissimo sappiamo bene ormai lo ripetiamo da anni che la seconda causa dopo il tabacismo dopo il fumo di sigarette la seconda causa di morte prematura nel mondo da malattie non trasmissibili è l'inquinamento atmosferico si calcola appunto nel 2021 circa 7 milioni di morti nel mondo premature dovute all'inquinamento dell'aria e in Europa lo citava Marco finisco la contestualizzazione poi entro nel toolkit però credo un ultimo dato di contestualizzazione importante perché lo diceva bene Talluri mi ha dato l'assist lo devo dire perché è un elemento fondamentale in queste settimane in Europa stanno lavorando per adeguare i limiti consentiti in Europa di vari inquinanti le NOx il particolato eccetera eccetera a dei livelli che tendono verso quelli che raccomanda l'OMS perché l'OMS l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2021 dopo un lavoro importante ha elaborato delle linee guida su quelli che dovrebbero essere i valori limite massimi consentibili di inquinamento nelle città dovute principalmente a vari elementi di inquinamento però concentrandosi anche appunto sul traffico sull'inquinamento veicolare è chiaro che i limiti migliori sarebbero zero inutile girarci cioè il vero limite sarebbe zero dopodiché una serie di studi di approfondimenti ti danno realisticamente il valore limite accettabile per prevenire determinato determinati tipi di patologie e quando parlo di determinati tipi di patologie ricordiamoci bene che non parlo non parliamo solo del classico tumore ai polmoni e altri tipi di tumori di questo tipo attorno all'inquinamento atmosferico recenti studi scientifici vedono il sorgere di numerosissime patologie le più diverse tra di loro che vanno a colpire non solo il sistema appunto non solo a livello pneumologico ma anche cardiovascolare cerebrale quindi attorno ai danni che può causare l'inquinamento atmosferico e i danni sulla salute ci sono una quantità importante di patologie ma venendo alle questioni legate alla comunicazione l'esigenza e l'importanza cioè l'esigenza la necessità di fare questo di produrre questo toolkit a livello europeo da parte di Hill è venuta anche guardando due dati incredibilmente positivi che ci dice Eurobarometro del 2020 Eurobarometro come sapete forse l'aveva citato prima anche Marco è diciamo il centro di statistica europeo quello che si occupa appunto di fare le statistiche a livello europeo dei cittadini dei cittadini europei ebbene secondo Eurobarometro nel 2020 il 54% dei cittadini europei richiede di non essere adeguatamente informato rispetto alle problematiche ambiente e salute nello specifico le problematiche sull'inquinamento atmosferico il 68% dei cittadini e delle cittadine europee sostiene che gli scienziati dovrebbero partecipare in maniera più definita e chiara al processo decisionale politico quindi c'è da questi due dati emergono due questioni importanti da una parte che c'è bisogno di maggiore informazione scientifica nei confronti di queste tematiche dall'altra che c'è una fiducia importante da parte delle cittadine dei cittadini del nostro continente della nostra Unione Europea nei confronti del mondo scientifico fiducia che probabilmente nonostante appunto derive di cui non voglio parlare su cui non entriamo oggi probabilmente è anche cresciuta in qualche modo con l'avvento della pandemia da Covid il dato è precedente arrivo quindi a cosa dopo magari chiaramente il toolkit è liberamente scaricabile ovviamente facilmente leggibile perché sono venti pagine da chiunque ci sono degli esempi poi magari lo scorriamo velocemente perché mi sembra importante quello su cui però vorrei concentrarmi sono i messaggi cioè quando noi parliamo di quando noi proviamo noi operatori della comunicazione noi ONG noi associazioni noi semplici cittadini noi società civile organizzata che proviamo a parlare del problema dell'inquinamento dell'aria dobbiamo concentrarci secondo noi su fondamentalmente ovviamente su due aspetti le ricadute gli effetti dell'inquinamento sulla salute i costi economici dell'inquinamento atmosferico questo secondo passaggio è molto importante ultimamente tutte le strategie di comunicazione che stiamo provando a mettere in atto su problemi ambientali che hanno ricaduto sulla salute affrontano anche il tema economico cioè quanto costa ai governi ai cittadini ai sistemi sanitari e quindi ai governi ai cittadini quanto costano quanto costa l'inquinamento atmosferico perché l'aspetto economico ovviamente è importante per il cittadino e per i cittadini e quindi i co-benefici dell'azione ovviamente in termini dando una lettura positiva del messaggio che vogliamo trasmettere i co-benefici per la salute e per l'economia di azioni diverse a favore ovviamente in questo caso dell'ambiente e contro l'inquinamento dell'aria cioè i due focus principali devono essere se vogliamo dare una lettura positiva ai co-benefici dell'azione in termini economici e di salute inoltre è fondamentale andare a valorizzare ripeto non per un approccio come dire per un messaggio che abbia una sua capacità di raggiungimento del fine appunto che vogliamo raggiungere deve essere quello anche di prendere in considerazione laddove ci siano queste problematiche i cosiddetti gruppi vulnerabili noi non possiamo pensare di fare una comunicazione sui problemi legati all'inquinamento atmosferico senza andare a sottolineare come le conseguenze sulla salute dell'inquinamento atmosferico vanno a colpire prevalentemente inevitabilmente mi sembra abbastanza banale ma è bene ripeterlo i bambini e le bambine per esempio perché sono soggetti più vulnerabili sono soggetti fragili oltre agli anziani e a tutta un'altra serie di categorie appunto vulnerabili ma concentrare l'azione e la comunicazione andando ad individuare ovviamente con dati scientifici quanto questi vanno a ledere la salute dei nostri figli dei nostri nipoti è essenziale come essenziale chiudo rispetto a rispetto ai macro gruppi diciamo ai macro messaggi che devono essere che potrebbero essere utilizzati per vecolare efficacemente messaggi sulla comunicazione dell'inquinamento atmosferico mettere in risalto come poi queste problematiche non vanno che a cuire le disuguaglianze sociali esistenti è evidente anche qua è un approccio che stiamo sempre di più approfondendo anche a livello legislativo come la giustizia climatica è strettamente connessa alla giustizia sociale e quindi come le disuguaglianze sociali come gli effetti nocivi dei cambiamenti climatici in generale qui nello specifico dell'inquinamento dell'aria vanno in evidente a colpire prevalentemente chi vive in condizione di maggior povertà per evidenti motivi strutture inutile che le cito è abbastanza chiaro che ovviamente chi vive in un quartiere popolare di Roma è sottoposto di inquinamento atmosferico e quindi a ricadute sanitarie importanti molto di più chi vive nel centro storico con la ZTL o l'accesso alle cure è evidentemente purtroppo chiaro che chi ha possibilità economica ha più capacità di far fronte ad eventuali patologie rispetto a chi non ha le risorse economiche questi sono come dire i capisaldi del messaggio che è utile realizzare per fare una comunicazione efficace su questa tematica dopodiché vado velocemente a questo è il toolkit penso che adesso state vedendo sì questo è il toolkit che vi citavo che abbiamo tradotto in italiano è molto semplice e oltre qui ci sono i dati che vi citavo e oltre alle macro categorie che vi vado veloce perché gran parte delle questioni scritte qua le ho dette poco fa ma quello che è interessante questo lo dico rivolgendomi prevalentemente a chi opera appunto nell'ambito della comunicazione uno degli aspetti più importanti secondo me di questo toolkit è anche l'analisi che viene fatta strumento per strumento cioè è chiaro che vi faccio vedere un esempio se lo trovo è chiaro che per esempio quando si utilizza ora qui c'era scritto ancora twitter ovviamente si chiama x conosciuto da tutti come twitter è chiaro che è molto molto interessante anche andare a approfondire come può essere giusto veicolare un messaggio qui abbiamo due esempi anche abbastanza semplici dove ovviamente si sottolinea come il messaggio non deve essere troppo dettagliato troppo tecnico deve essere o accurato ovviamente dal punto di vista scientifico ma facilmente comprensibile da chi non è appunto scienziato o scienziata deve avere appunto noi usiamo in Italia meno in altri paesi europei twitter ma twitter è una funzione molto importante perché ci permette spesso di comunicare direttamente e più facilmente con i decisori politici soprattutto fuori dall'Italia questo è molto importante in Italia ancora no però credo che sia comunque necessario adoperarsi in questo senso oltre e chiudo andare verso su questo come ISDE insieme anche ad altre associazioni ultimamente ci stiamo molto attrezzando in questo senso come andare ad utilizzare sempre di più le cosiddette infografiche in un periodo in cui la comunicazione si fa in cui i cittadini assorbono notizie soprattutto dai social e social che sempre di più sono basati su video e immagini Instagram per esempio o molto più di Facebook ultimamente e poi soprattutto se vogliamo ovviamente rivolgersi prevalentemente a quelli che sono più giovani di noi quindi quelli che hanno meno diciamo di 30 anni è fondamentale ricalibrare la comunicazione andando a valorizzare a costruire strumenti diversi come appunto in questo caso ci sono alcuni esempi infografiche chiare semplici carine che non guasta e che riescono subito a cogliere l'attenzione dell'utente anche e soprattutto quelli più giovani appunto che ripeto difficilmente purtroppo leggono un articolo su repubblica.it piuttosto su riporriere.it ma dedicano invece diverse ore della propria giornata su Instagram magari se invece che guardare solo la Ferragni guardassero riuscissimo a portarli a guardare anche infografiche e video che hanno questo tipo di messaggi sarebbe ovviamente importante insieme alla Ferragni senza nulla togliere ovviamente alla più importante influencer italiana detto questo io non aggiungo altro al momento se non appunto consigliare a tutti anche chi non è nel settore della comunicazione di dare una letta veloce appunto sono 20 pagine a questo toolkit che credo sia uno strumento molto utile non solo per fare comunicazione ma anche per capire quando riceviamo quando riceviamo messaggi dai social non solo quali sono appunto quelli come diceva come abbiamo detto prima quelli che possono essere appunto veri e quelli che invece possono avere dietro appunto le ormai note fake news che in questo ambito stanno crescendo chiudo davvero in maniera importante l'ultimo dato attenzione questo lo dico da comunicatore ambientale attenzione perché noi abbiamo alle porte una campagna elettorale quella degli europei che probabilmente non sarà caratterizzata a parte in Italia abbiamo la questione migranti però lasciamo un attimo da parte non sarà caratterizzata più di tanto da destra e sinistra sarà molto caratterizzata da uno scontro frontale tra chi sostiene le ragioni dei cambiamenti della transizione ecologica dei cambiamenti radicali verso la transizione ecologica e chi invece vuole mantenere lo status quo non entrano nel merito dei partiti ci mancherebbe però attenzione perché la campagna elettorale sarà molto interessante perché saranno questi due poli che vedranno il dibattito pubblico maggiormente impegnato grazie grazie Francesco e grazie anche per la chiusa perché effettivamente finiamo per vedere forse finiremo per vedere un film già proiettato perché comunque in America si è giocato a lungo su questo scontro le fake news sono state uno strumento di battaglia elettorale spesso appunto scorretto pertanto è importante costruire una buona comunicazione e saperla decodificare quindi quel toolkit così anche come l'hai illustrato è veramente uno strumento fondamentale anche proprio per chi non è del settore ma è un semplice fruitore di informazioni perché la costruzione appunto di una serie di campagne di una serie di informazioni che finiscono per essere alla portata di tutti e scardinano quelle che possono essere appunto delle cosiddette bufale è fondamentale c'è veramente uno strumento di cui dobbiamo utilizzare di cui dobbiamo servirci sia come creatori che appunto come lettori fruitori grazie mille grazie ovviamente per tutta l'attività dell'ISDE che ha illustrato in particolar modo tutto l'aspetto sulla comunicazione di vulnerabili rivolta comunque a capire gli effetti dell'inquinamento sulle persone vulnerabili sul divario sociale è bene ritornare anche appunto ad alcune battaglie che abbiamo perso nel corso del tempo in particolare questo intreccio tra tema economico e economico ambientale e sociale che era iniziato negli anni settanta l'abbiamo un po' perduto quindi grazie e adesso io vorrei introdurre la dottoressa Maria Chiara Pastore che ho salutato prima e la chiamo a parlare siamo particolarmente felici di averla con noi che la dottoressa è il referente del progetto Parco Italia e è docente del Dipartimento di Architettura e di Studi Urbani del Politecnico di Milano e direttore del Dipartimento di Ricerca Studio Boeri quindi non vediamo insomma l'ora di ascoltarla e siamo veramente molto lievi grazie 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 mille per questo invito e ringrazio moltissimo i colleghi che hanno parlato prima perché mi hanno ispirato moltissimi pensieri e non vedo l'ora di approfondire diciamo quello che hanno lanciato la mia presentazione che adesso condivido spero la vediate in un momento eccomi la vedete vero? confermo grazie parte da un punto di vista un po' diverso racconta diciamo in questo caso il lavoro di progettazione verso una tensione che è quella diciamo come rispondere all'inquinamento atmosferico dal punto di vista dell'architettura quindi cercando di lavorare all'introduzione di alcuni dei sistemi che possono contribuire a questo le slide sono molte ma cercherò di essere breve e concisa e quindi parto lo studio è uno studio che ha tre sedi uno a Milano uno a Shanghai e uno a Tirana si occupa tra ovviamente di architettura progettazione master plan lavoriamo moltissimo diciamo anche delle visioni territoriali come quello detto da Ginevra appunto Parco Italia sull'Italia intera e lavoriamo cercando di comunicare il più possibile il perché di questa importanza abbiamo appunto lavorato questo libro che si chiama Green Obsession con l'idea di portare sempre diciamo il tema delle relazioni e delle reti che costruiamo con esperti e quindi grazie a chi prima di me ha detto dell'importanza diciamo di avere fonti certe quindi l'idea di costruire reti e background e conoscenze molto diverse a lavorare insieme quindi scienziati agronomi persone che si occupano di tutti gli aspetti che sono necessari per questa epoca incerta partiamo sempre dall'importanza di avere alberi e arbusti all'interno della città riconoscendole riconoscendo all'albero un grande valore a 360 gradi da quello culturale a quello ambientale alla presenza appunto di una natura di vivente che lavora anche dal punto di vista sociale attraverso per brevità salto il video col che si occupano proprio di produrre dei manifesti che possano essere di ispirazione a istituzioni politici ma anche cittadini proprio per questo tema e all'interno del progetto dell'architettura l'idea di introdurre la natura in maniera strutturale vi pongo qua alcuni degli esiti uno è il Bosco Verticale a Milano che ospita più di 800 alberi nelle facciate proprio come uno dei dispositivi ambientali che tra l'altri appunto costituisce servizi ecosistemici di diverso livello tra cui assorbimento degli inquinanti ed è a proposito di comunicazione diventato uno degli esempi fotografici diciamo iconici proprio per questa idea di natural based solution quindi introduzione della natura nei sistemi soluzioni basate nella natura su sistemi complessi ovviamente in questo caso la tecnologia è molto rilevante per noi gli alberi non sono alberi qualunque ma sono alberi che vengono diciamo adattati a questo tipo di architettura attraverso sistemi complessi attraverso nursery di livello testati ad esempio nella galleria del vento per per resistere a eventi atmosferici sempre più rilevanti come quello che ad esempio è stato a Milano nello scorso luglio e questa è una mappa che racconta diciamo come questo tema della natura viene nel mondo riportata Trudo ad esempio è un lavoro che abbiamo portato avanti nel tentativo di inserire di nuovo strutturalmente la natura nell'edificio in social housing quindi cercando di abbattere i costi di costruzione inserendo comunque la natura attraverso il prefabbricato questi sono alcuni degli esiti e questi sono gli abitanti e così adesso appunto scorro velocemente le immagini il tema di declinare la natura nelle sue diverse parti alcuni sono edifici per uffici o misti residenziali proprio nel tentativo di adattare le soluzioni il più possibile inserendo di nuovo ripeto in maniera strutturale la natura un secondo elemento riguarda tutto il comparto edilizio che non è di nuova costruzione ma di tutto il comparto edilizio che è già costruito quindi lavorare sul retrofitting facendo in modo che edifici che possono essere rinnovati possano di nuovo contenere la natura in maniera diversa quindi un esempio di retrofitting questo progetto ha creato che è un urban innovation action quindi come lavorare da un edificio per uffici modificandone la facciata oppure della riqualificazione di edilizia residenziale qui siamo a Monza fino ad arrivare diciamo a degli esempi di lavoro questo è il master plan di Tirana dove in questo caso si lavora sulla pianificazione l'introduzione della natura viene costituita in maniera strategica attraverso l'introduzione di boschi orbitali l'introduzione di elementi più puntuali come filari sepi all'interno della città oppure progetti come la città metropolitana il progetto strategico per la grande Ginevra dove in questo caso veniva chiesto lo sviluppo della Ginevra nei prossimi anni e quindi l'idea di immaginare che la la grande Ginevra fosse costituita non più attraverso il sistema di rizzo ma attraverso il sistema ambientale costituito dal sistema montuoso quindi mettere la montagna al centro di questo sistema e un processo di produzione che è quello soprattutto quello svizzero che ha molto rilevante il sistema della forestazione ma anche la filiera dell'utilizzo del regno come elementi rilevanti quando si tratta di masterplan di nuova costruzione immaginare appunto di nuovo il sistema di tecnologia e il sistema del verde come elementi strutturali insieme all'acqua come elementi quasi ossessivi di lavoro dove alla città si costituiscono dei sistemi più piccoli di walkability fino ad arrivare diciamo questi sono ovviamente come il nostro sistema sta cambiando come le temperature sono parte integrande diciamo delle nostre l'aumento delle temperature e l'isole di calore sono parte rilevante dei dati che noi dobbiamo sempre tenere in relazione quando andiamo a lavorare quindi lavorare con European Special Agency ad esempio noi abbiamo delle collaborazioni proprio per andare a considerare i dati analitici come il punto di partenza della progettazione fino a affrontare grandi sfide come quelle di introdurre la natura in sistemi complessi come sistemi aridi come Dubai come l'Egitto dove abbiamo lavorato e in Saudi dove appunto il tema è come costituire sistemi resilienti in luoghi dove la scherzità di precipitazioni è particolarmente rilevante così come l'umidità e quindi adattare le specie creare dei sistemi tecnologici e naturali che possano rispondere fino al progetto Parco Italia che prende spunto da una visione di Richard Weller che lavorava proprio sull'aumento della biodiversità a livello globale partendo dagli hotspot presenti e lavorando in sistemi di connessione e prendendo spunto dal progetto di FAO su progetto contro la desertificazione in Saudi fino ad arrivare al progetto Parco Italia che è un progetto che in questo momento stiamo sviluppando che ha due due parti la prima di ricerca quindi la ricerca di luoghi che già caratterizzano l'Italia come luoghi dove il capitale naturale dove gli hotspot di biodiversità dove le progettualità sono già molto presenti dove questo tema di relazione quindi è già parte integrante del processo fino ad arrivare diciamo ai luoghi dove il tema della frammentazione dove l'isola di calore il consumo del suolo sono particolarmente rilevanti fino ad arrivare diciamo a dei progetti di piantagione che sono già iniziati grazie alla relazione con la fondazione Alberitalia dove si stanno piantando alberi e arbusti all'interno proprio del framework di lavoro di Parco Italia per diciamo migliorare la qualità dell'aria la qualità del suolo la qualità della vita delle persone che vivono intorno in un tema di riconnessione ecologica dal nord al sud tra l'esistente tra le città e tra tutto quello che si va a a costruire fino diciamo all'ultimo progetto che invece è molto più specifico sulla città metropolitana di Milano in questo caso si è partiti proprio da un bonus ambientale la la pianura padana è una delle aree dal punto di vista ambientale più degradate di tutta Europa e l'idea di piantare alberi e arbusti in una misura diciamo non certamente sufficiente a controbilanciare il tema dell'inquinamento dell'area in toto ma come di nuovo le natural del solution possono insieme alle molte altre politiche che devono essere messe a sistema a migliorare la qualità dell'aria la qualità della della viabilità delle nostre città e quindi il progetto Forestami che ha l'obiettivo di piantare 3 milioni di alberi e arbusti nella città metropolitana sono equivalenti al 5% di aumento del tri-canopy cover che è appunto la misura della superficie fogliante nella città metropolitana di Milano proprio per dare questo passo in linea con le politiche europee il Green New Deal la biodiversity strategy proprio dell'incremento della natura come parte strutturale questo è un progetto di ricerca del Politecnico di Milano e un progetto di nuovo di piantagione quindi quest'attitudine nel provare a portare degli oggetti di ricerca e poi provare a testarli anche dal punto di vista noi siamo appunto architetti e planner testare delle soluzioni che ci aiutano anche dal punto di vista della governance a far capire quali sono gli elementi oggi che non ci permettono di attuare delle politiche se fosse semplice se fosse possibile avremmo delle città diciamo verdi pulite ambientalmente e salutari sappiamo che non è così e il nostro contributo e quindi ringrazio di nuovo per questo invito è lavorare a processi tra gli altri dove il tema della natura entra come uno degli elementi non l'elemento ma uno degli elementi che possono complementare altre politiche per migliorare proprio questo elemento ringrazio di nuovo per questo tema rilevantissimo della disseminazione noi abbiamo organizzato siamo stati tra gli organizzatori del primo forum mondiale delle foreste urbane che è stato organizzato a Mantua nel 2018 il secondo cadrà tra pochi giorni a Washington a ottobre l'idea è proprio quella di lavorare non per disciplina ma come collaborazioni tra le tante discipline che credo che sia anche un po' lo spirito di questo convegno l'idea è come i vari le varie discipline in questo caso ci sono le istituzioni gli arboricoltori gli architetti planner i forestali gli agronomi gli scienziati che si occupano ad esempio dello studio degli inquinanti lo studio anche dal punto di vista dell'equità che è uno dei temi molto rilevanti per quanto riguarda appunto la relazione con la natura tutti insieme portando ognuno un pezzo di conoscenza però discutendone insieme e abbiamo avuto la fortuna di essere menzionati per questo tema come winner dell'SDG Action Award di cui prima si è anche parlato e anche recentemente l'European Respiratory Society ha dato questo premio proprio per il lavoro per cercare soprattutto di riposizionare le città all'interno di questo tipo di processi vi ringrazio sono stata concisa ma ovviamente le slide sono a disposizione grazie professore è stata perfettamente nei tempi anche per raccontare un progetto sicuramente importante non semplici sono da condensare in tutti questi nei pochi minuti che le abbiamo dato a disposizione però ecco siamo veramente grati di averla avuta con noi e anche di aver raccontato l'importanza appunto di quanto svolgete e soprattutto di poter ragionare su quali elementi non ci permettono di avere oggi e di vivere in vere città verdi noi stiamo organizzando per il prossimo mese anche un convegno sull'abitazione urbano cioè sul rapporto tra salute e qualità del vivere nelle città in particolar modo i grandi centri del nostro paese dove sono sempre più stretti tra cementificazione e spazi verdi e rosi anche Roma che è una città comunque fortemente verde è sempre più soggetta ad una cementificazione incredibile quindi ci farà piacere magari tornarne a parlare ecco da questo punto di vista molto volentieri avevo il microfono molto benissimo grazie grazie davvero per il suo contributo e per le slide che renderemo disponibili senz'altro perché sono un materiale di grande interesse e adesso io invito a parlare il dottor Matteo Caldera che è un ricercatore dell'Enea e io l'ho fortemente voluto lui sa l'ho un po' corteggiato per venire a questo incontro perché il dottor Caldera si occupa di comunità energetiche mi piaceva moltissimo che potesse parlare proprio del rapporto tra qualità dell'aria e questo tipo di esperimentazioni ormai che sono una realtà quindi grazie per aver accettato e insomma siamo contenti di ascoltarla grazie Ginevra per l'invito è stato un piacere essere corteggiato da te e direi che il mio intervento si raccorda con quello dei precedenti relatori cioè il dottor Talluri e il dottor Romizzi io ho cercato di dare nella mia presentazione un'impostazione molto legata a quella che è la tematica della qualità dell'aria e ad ampio spettro le implicazioni che essa comporta poi sicuramente faccio un accenno a quello delle comunità energetiche le configurazioni delle comunità energetiche e quello che potrebbe essere il loro contributo per mitigare diciamo l'inquinamento e quindi migliorare l'aspetto ambientale che tra l'altro è uno degli obiettivi delle comunità energetiche e per fare tutto ciò condivido lo schermo un attimo solo che cerco di trovare lo schermo giusto e dovrebbe essere questo allora condividi bene ti vediamo grazie allora quindi la mia presentazione è incentrata sulla questione dei dati e dell'importanza delle fonti cioè fare un confronto tra quelli che sono i dati relativamente a parametri ambientali e nello specifico la qualità dell'aria e a confrontarle perché ritengo che dal confronto dei dati provenienti da fonti autorevoli istituzionali scientifiche quindi super partes direi anche a prova di fake si possa poi arrivare ad una conclusione di qual è lo stato dell'arte e dove stiamo andando allora vi proietto qua un grafico dinamico che immagino molti di voi abbiano visto è stato pubblicato qualche mese fa dalla NASA quindi direi che a proposito di fonti autorevoli su questo non temo smentite e come potete vedere questo grafico rappresenta l'evoluzione della temperatura media globale a livello mensile nel corso degli anni come potete vedere c'è una divergenza una tendenza la divergenza di questa temperatura molto pronunciata a partire dagli ultimi trent'anni come potete vedere i cerchi tendono sempre più a divergere a partire per la tangente e questo dimostra come la temperatura andando dal basso verso l'alto sia passata dal 1880 al 2021 a un aumento di un grado e più medio quindi siamo ormai molto prossimi a quel grado e mezzo che rappresenta un pochino quel mantra che purtroppo ci stiamo avviando a superare perché mostro questi grafici sulle temperature perché la qualità dell'aria in sostanza risente anche di quelle che sono le evoluzioni termiche a livello locale e a livello globale come vi mostro tra poco anche i mari quest'anno soprattutto non hanno avuto una temperatura che è notevolmente aumentata rispetto a quello che era il trend storico dobbiamo renderci conto che i mari svolgono una funzione molto importante anche di cattura della CO2 che è uno dei principali gas a effetto serra non è l'unico a nord del vero ma è quello sicuramente utilizzato come riferimento allora questo altro grafico che più una fotografia che arriva che è stato prodotto dal World Meteorological Organization altra fonte assolutamente autorevole rappresenta la temperatura globale nello scorso mese di luglio in particolare più che la temperatura l'anomalia di temperatura come potete vedere quell'aumento di un grado che vi ho mostrato prima non è distribuito uniformemente a livello globale ma è più concentrato in certe zone del nostro pianeta in particolare faccio presente come la zona che più preoccupa sono i poli perché come potete vedere a livello del polo nord soprattutto il polo sud è più visibile in questo grafico c'è un aumento di temperatura un'anomalia di temperatura molto elevata che comporta uno scioglimento dei ghiacciai con tutto quello che ne consegue poi a livello globale dato che questo convegno è un convegno organizzato nell'ambito dell'osservatorio euro-mediterraneo invito tutti a vedere la forte anomalia di temperatura che si è avuta questa scorsa estate nel bacino del Mediterraneo chi di noi non è andato il mare quest'anno si è andato nelle nostre spiagge si è sicuramente reso conto che quest'anno il mare era un brodo sostanzialmente la temperatura è veramente molto molto alta ora se guardiamo altra fonte la stessa fonte prima c'è il World Meteorological Organization tramite rilevazione del sistema copernico un sistema dell'ESA del nostro continente che monitora gli effetti a livello di qualità dell'ambiente e di sicurezza ambientale come potete vedere nello scorso mese di luglio di agosto abbiamo raggiunto dei picchi di temperatura superficiale sulla terra quindi grafico sinistra e superficiale a livello dei mari assolutamente preoccupanti guardate ad esempio nel caso dei mari quanto il grafico qua con pennino nero spesso sia notevolmente diciamo così è notevolmente più alto rispetto quella che la media sia degli anni precedenti del recente passato che sono i grafici colorati ma anche di quella nuvola di grafici che rappresentano le rilevazioni quindi rilevazioni sperimentali a partire dal 1979 ora arriviamo a questo punto a parlare più nello specifico di quelli che sono i parametri di qualità dell'aria quindi prima di tutto l'evoluzione della concentrazione in CO2 questo è un grafico tratto delle rilevazioni sperimentali condotte da Enea sull'isola di Lampedusa dove Enea ha un laboratorio proprio dedicato al monitoraggio della qualità ambientale e si può vedere come dal 1990 al 2019 c'è stato un continuo e progressivo aumento della concentrazione di CO2 nel mare quindi diciamo perché è stato messo una centralina climatica a Lampedusa perché appunto rileva la concentrazione di CO2 di fondo nel nostro continente chiaramente come i relatori che mi hanno preceduto hanno chiaramente indicato a livello locale nelle città la concentrazione tende anche ad essere superiore proprio per effetti antropogenici il grafico più in basso rappresenta in blu quella che è il growth rate quindi la tendenza di crescita dell'OCO2 e in rosso il grafico il bar plot a quella che è l'anomalia di temperatura media del nostro del nostro paese rispetto alla situazione di riferimento pre-industriale quindi come vedete anche questo grafico altra fonte ma stesso risultato abbiamo superato sistematicamente ormai come si può vedere negli ultimi anni un aumento di più di un grado rispetto alla situazione pre-industriale ora altra fonte la IEA sicuramente fonte molto autorevole rappresenta in questo grafico l'andamento della produzione di CO2 col tempo i due grafici non sono esattamente confrontabili perché qua non siamo a livello di parti per milioni ma siamo a livello di gigatonnellati di CO2 ma il trend come potete vedere assolutamente lo stesso altro grafico emissioni nazionali di gas climanteranti per settore a livello nazionale come potete vedere anche qua la CO2 equivalente rappresenta diciamo così dei valori assolutamente significativi in questo grafico la cui fonte è Ispara cioè l'Istituto Superiore di Protezione Ambientale altra fonte autorevole ci sta a indicare le principali fonti di gas climateranti come potete vedere il settore energetico quindi produzione di energia è responsabile di una grande quantità di emissioni CO2 emesse nel nostro paese dopodiché sono molto significativi le emissioni industriali l'agricoltura e il settore dei rifiuti un dato però interessante che vi proietterò anche poco più avanti dimostra come seppur in un contesto globale che tende a peggiorare la situazione a livello nazionale tende a migliorare questo ovviamente per effetto di una maggiore di una sensibilità del decisore politico europeo nazionale nei confronti di queste tematiche molto importanti impattanti per la nostra generazione ma soprattutto per le prossime generazioni ovviamente questa cosa non è ottenuta a costo zero per arrivare a una diminuzione come diceva prima il dottor Romizzi che mi ha preceduto l'aspetto economico della mitigazione climatica è significativo però è l'unica strada che abbiamo davanti cioè dobbiamo renderci conto che la mitigazione ha un costo sicuramente però se ciascuno di noi comincia a fare la sua parte e consuma l'energia in modo più efficiente riduce gli sprechi evita di utilizzare l'autovettura quando non è necessario utilizza piuttosto la bicicletta soprattutto quando deve spostarsi in città tutti noi possiamo dare nel nostro piccolo un contributo ridurre questo trend come potete vedere l'energia contribuisce per una gran fetta a questo trend quindi siamo in 60 milioni in Italia se ciascuno di noi desse il suo contributo sicuramente otterremo risultati importanti ora lo stato della qualità dell'aria in Europa insomma tratto dalla European Environment Agency a maggio 2023 quindi dati più recenti che ho trovato online rappresentano quanto segue l'inquinamento dell'aria rappresenta il maggior rischio ambientale per la salute dell'uomo nonostante i continui miglioramenti i limiti di qualità dell'aria sono superati in molte zone d'Europa in particolare in Italia con concentrazioni ben superiori alle più recenti raccomandazioni MS c'è da dire una cosa che i limiti OMS sono particolarmente bassi a livello europeo abbiamo dei limiti diversi ritengo che sarebbe opportuno a livello internazionale armonizzare i limiti perché è chiaro che avere due limiti diversi è un po' come i limiti per quanto riguarda una situazione di condizioni di malato oppure no uno ha la stessa concentrazione di colesterolo se per una metrica è troppo nella normalità per un'altra è invece una situazione eccessiva beh qua dobbiamo un attimo intenderci perché questo soggetto ha sempre la stessa concentrazione di colesterolo quindi è tanto o è nella media è importante ritengo una armonizzazione delle metriche ora per quanto riguarda il particolato l'Italia assieme all'Europa del centro-est ha riportato una delle più alte concentrazioni a livello europeo principalmente dovuto all'uso di combustibili solidi per riscaldamento domestico nell'industria quindi come potete vedere l'utilizzo di un combustibile per uso energetico per uso industriale ha un notevole impatto su quello che è la qualità dell'aria anche dal punto di vista dell'ozono degli O2 abbiamo dei valori superiori rispetto alle linee guida sanitarie i livelli di ozono più alti sono osservati nella regione del Mediterraneo Ginevra se ho qualche minuto ancora a disposizione vorrei cogliere l'occasione per mostrarvi proprio direttamente insomma quelli che sono i grafici tratti dal sito della European Environmental Agency che già il dottor Talluri aveva già in parte esposto nella sua presentazione come potete vedere perché li mostro per farvi vedere che l'Italia non è messa bene in queste classifiche tra l'altro notizie delle testate giornalistiche degli ultimi giorni appunto siamo uno dei paesi più inquinati a livello europeo e ritengo proprio perché ci si appoggia su questi indicatori su questi risultati della European Environmental Agency come potete vedere la pinura padana è particolarmente infelice dal punto di vista dell'inquinamento d'altronde è presente una fetta molto importante della popolazione nazionale in pianura padana ed è anche la zona del nostro paese con la maggiore concentrazione di aziende ed è diciamo così per quella che è la sua conformazione quindi circondata dalle Alpi non permette un adeguato a ventilazione e questo ovviamente fa sì che le sostanze inquinanti rimangano condensate in pianura questa è la situazione a livello di PM10 la situazione a livello di PM2.5 che vedremo tra poco è analoga insomma e come potete vedere quindi l'Italia è di nuovo una delle zone più inquinate d'Europa faccio presente come le concentrazioni di PM2.5 siano ancora più critiche rispetto alle concentrazioni di PM10 perché non vengono trattenute diciamo così e vanno direttamente a finire nel nostro sistema respiratorio causando potenzialmente insomma delle situazioni pericolose per la nostra salute come potete vedere anche a livello dello zono per quanto riguarda lo zono siamo messi abbastanza male ora queste statistiche che indicate in questa slide stanno a indicare quelli che sono i settori più rilevanti per quanto riguarda la produzione di determinati inquinanti per esempio gli ossidi di azoto sono principalmente generati dal trasporto stradale e poi dagli impianti di riscaldamento mentre per quanto riguarda i metalli pesanti sono principalmente dovute all'industria manufatturiere ed estrattive dell'approvvigionamento energetico faccio vedere anche questo grafico per quanto riguarda le emissioni annuali di PM10 in Lombardia perché ve lo mostro perché fa vedere molto chiaramente come le concentrazioni più elevati di PM10 siano localizzate in corrispondenza delle principali città sia a livello di abitanti di residenti sia a livello di concentrazione di stabilimenti industriali quindi c'è la zona di Milano Monza Brianza Bergamo Brescia e come potete vedere le concentrazioni di PM10 seguono molto bene quello che è l'andamento dell'autostrada 4 Tolino Milano Venezia ancora un grafico vedendo più nel specifico di quello che è il mercato elettrico italiano questi sono dati presi dal gestore dei mercati energetici e fanno vedere a febbraio 2022 a luglio 2023 quelle che sono i principali fonti energetiche utilizzate per la produzione di energia elettrica come potete vedere il gas la fa sempre da padrone siamo passati dal 53% al 47% c'è stata una riduzione del carbone dall'8,8% al 4,7% di luglio l'8,8% dell'anno scorso era un valore molto elevato legato al fatto che eravamo in piena crisi delle bollette quindi crisi dei prezzi e quindi si è sfruttato molto di più il carbone perché ha dei costi di approvvigionamento inferiori questo a scapito però della qualità dell'aria e questo deve aprire un altro campanello d'allarme cioè è chiaro che in un contesto di crisi economica che impatta sulle famiglie la qualità dell'aria passa in secondo piano questo deve farci riflettere tutti perché vuol dire che a livello di sicurezza del nostro sistema energetico e di protezione ambientale siamo molto esposti altro aspetto che vorrei sottolinearvi è che le fonti rinnovabili sono passate dal 32% al 41% attenzione che qua stiamo sempre ragionando a livello di dati percentuali bisognerebbe integrare i dati percentuali con dei dati assoluti perché il dato percentuale ha comunque un significato relativo come dice la stessa parola però il dato importante che voglio esporvi è come l'energia idraulica quindi prodotta sostanzialmente degli impianti idraulici si è passata dall'11% dell'anno scorso al 21% l'anno scorso eravamo anche qua in crisi piena crisi che non pioveva sostanzialmente quindi mancava la risorsa idrica e questo si ripercuoteva anche sulla produzione energetica abbiamo quindi dovuto supplire a questa mancanza di produzione idraulica che comunque fa ancora una buona fetta di quella che è la nostra produzione rinnovabile nazionale utilizzando fonti fossili attenzione che quest'anno come potete vedere la produzione idraulica è più rientrata di quella che è la media e quindi del 41% di fonti rinnovabili la metà è ancora legata alla produzione idraulica vado verso la conclusione della mia presentazione ritengo questo grafico abbastanza significativo perché fa vedere una cosa importante e cioè che grazie agli sforzi a livello europeo che sicuramente dovranno essere intensificati si sta verificando un disaccoppiamento tra quella che l'emissione di inquinanti che sta sostanzialmente scendendo per diverse tipologie di inquinanti rispetto a quello che è il PIL europeo che è la curva tratteggiata quindi fino a qualche anno fa si assisteva a una correlazione piuttosto diretta tra quella che era l'emissione degli inquinanti e la crescita del PIL grazie alle misure che si stanno progressivamente prendendo che stanno dimostrando una efficacia stiamo riuscendo a disaccoppiare la produzione di PIL e di ricchezza con quella che è l'emissione degli inquinanti l'impatto dell'inquinamento però quello che chiaramente interessa più direttamente tutti noi inevitabilmente è quello che l'inquinamento è l'impatto dell'inquinamento neosferico sulla salute notizia questo grafico deve essere visto come una medaglia doppia faccia una faccia ci dice che stiamo andando nella giusta direzione stanno diminuendo le morti premature secondo quelle che sono le rilevazioni statistiche dell'Unione Europea e quindi siamo sulla buona strada però faccio presente a tutti l'asse delle ordinate cioè stiamo parlando comunque ancora di centinaia di migliaia di morti prematuri l'anno a livello europeo a causa della qualità dell'aria scarsa e quindi dell'inquinamento non sferico dobbiamo sicuramente ciascuno di noi per la sua parte e i decisori politici per loro proseguire su questa strada cercando di ridurre sempre di più l'impatto sulla salute dell'inquinamento non sferico faccio ancora vedere questo grafico questo grafico radar che rappresenta è stato prodotto dalla stoccolma resiliance center dell'università di stoccolma che valuta dal 2009 al 2015 al 2023 quello che la situazione a livello di resilienza nei confronti del del pianeta e di quelli che sono i limiti che ormai abbiamo superato sostanzialmente si è rappresentata la resilienza a livello globale tramite nove dimensioni che sono quelle qua indicate alcune di queste dimensioni sono state mappate solo recentemente per esempio le novel entities cioè l'effetto delle microplastiche dei pesticidi piuttosto che l'atmosferica aerosol loading e cosa si ottiene qua si vedono due cose ritengo molto significative uno è che dal 2009 al 2023 la situazione è andata impeggiorando perché come potete vedere allora gli spicchi verdi stanno a indicare se stanno all'interno di questo circolo grigio che siamo ancora in zona di sicurezza diciamo gli spicchi rossi stanno a indicare che per quella dimensione abbiamo superato il livello di guardia come potete vedere tranne alcuni aspetti cioè il livello di ozono l'atmosferica aerosol loading e comunque siamo abbastanza prossimi al livello di guardia e l'ocean acidification quindi il livello di acidificazione degli oceani legato alla temperatura quindi ha anche una minore capacità di assorbire poi minore capacità di assorbire il CO2 tutte le altre dimensioni sono state superate i livelli di guardia e quindi mentre riusciamo ancora a gestire in qualche modo il superamento di una due dimensioni nel momento in cui tutte le dimensioni vanno fuori scala superano i limiti di guardia allora andiamo chiaramente in una situazione particolarmente critica questo grafico come i precedenti risultati che vi ho mostrato stanno anche a rappresentare una cosa importante ritengo che sia molto significativo poi il ruolo che hanno le rilevazioni sia satellitari ma poi anche le simulazioni che vengono condotte dalle agenzie governative e dagli istituti di ricerca e dalle università per cercare di predire quelli che sono gli effetti di medio e lungo termine effetti legati sia a fenomeni naturali ma anche a quelli che sono gli effetti prodotti dall'uomo sul clima e sulla qualità dell'aria quindi in conclusione la qualità dell'aria dipende dai numerevoli fattori l'impatto dell'uomo è sicuramente significativo ormai fuori di dubbio ognuno di noi può fare la sua parte per migliorare la qualità dell'aria come vi ho appena detto dall'analisi sistemica dei processi sebbene oltrepassare un confine non equivalga a cambiamenti drastici che avvengono in tempi rapidi però se andiamo a superare la soglia critica per su tante dimensioni allora lì ovviamente questo determina una situazione critica che deve essere assolutamente affrontata come si è visto in tutti i grafici che vi ho mostrato in tutti i risultati autorevoli fonti scientifiche nazionali internazionali convergono sugli stessi risultati ci indicano la stessa conclusione l'impatto umano sugli ecosistemi deve essere rapidamente mitigato e con questo vi ringrazio per la vostra attenzione grazie grazie sono molto contenta di questo intervento perché appunto come detto in apertura era appunto di quanto hai esposto si tratta di una integrazione di quanto detto anche appunto dal dottor Ronizzi e dal dottor Talluri in particolare mi fa piacere che si sia insistito su anche il rapporto appunto economia società economia ambiente perché se delle famiglie arrivano chiaramente a considerare meno importante la qualità dell'aria la qualità della vita della propria salute rispetto appunto a quello che è l'impatto economico sulle proprie scelte e quant'altro dobbiamo veramente agire dobbiamo interrogarci capire come che cosa bisogna fare e quindi ecco che diffondere le notizie lavorare da questo punto di vista e avere tutti quanti dei piccoli accorgimenti sicuramente è fondamentale quindi mi fa piacere perché abbiamo avuto una carrellata di dati da fonti autorevoli che vanno appunto ad unirsi all'interno di un discorso più divulgativo che è quindi importante muoversi su tutte queste ramificazioni quindi ancora grazie e adesso io chiamo per chiudere il nostro incontro la dottoressa Elena Del Pup che ho introdotto in apertura e mi fa piacere averla con noi perché è una ricercatrice in biotecnologie agrarie ed è la fondatrice di questa bella realtà di cui appunto facevo menzione all'inizio della conferenza che è The Good Scientist quindi lascio a lei la presentazione di tutto e la ringrazio ovviamente per aver accettato il nostro invito grazie mille mi fa piacere di essere qui ringrazio intanto l'osservatorio Mediterraneo Mar Nero e FISMED per l'invito nello specifico la dottoressa Chinellato e la dottoressa Amadio nonostante non mi occupi nella mia ricerca di qualità dell'aria ci sono una serie di temi di punti di contatto con quello che è stato presentato dagli altri relatori quindi mi fa piacere mi ha fatto grande piacere leggere il toolkit nei giorni precedenti e spero riconnettermi a questi temi di Citizen Science presentando alcuni esempi di scienza civica in cui sono in cui ho lavorato in questi anni e durante i miei studi e di scienza in azione a servizio soprattutto con il coinvolgimento delle giovani generazioni di studenti di giovani ricercatori sono connessa dall'Olanda questo è il campus dove sto svolgendo il mio dottorato in bioinformatica all'Università di Wageningen sono originariamente un'ambriologa delle piante ma nella mia ricerca mi occupo dello sviluppo di algoritmi per scoprire nuove molecole di origine vegetale con applicazioni in ambito farmaceutico alimentare e agricolo e come alternativa alle molecole di sintesi chimica sono stata connessa anche territorialmente ad alcune realtà o insomma alcune realtà geografiche di cui si è parlato in alcuni dati l'ho studiato a FISA durante la mia triennale poi alla scuola superiore di Sant'Anna e poi mi sono spostata in Olanda per fare la mia magistrale durante gli studi sono stata impegnata appunto in svariate associazioni di volontariato giovanile per la divulgazione scientifica e il coinvolgimento di giovani ricercatori nelle politiche europee a sostegno delle biotecnologie per l'agricoltura e l'alimentazione e poi per la formazione in particolare imprenditoriale di talenti nel campo STEM e delle biotecnologie allora però senza indigio volevo poi condividervi un mio slide che dovreste vedere allora per questo ho intitolato il mio intervento l'associazionismo scientifico giovanile e la scienza civica e spero riportare alcuni esempi di alcune realtà e di riflessioni che ho fatto assieme ad altri miei colleghi negli studi e nella ricerca su come mettere la scienza in azione e come renderla a servizio dei cittadini anche con una visione forse un po' diversa di quella che è la comunicazione scientifica rispetto appunto alla visione tradizionale e anche con una visione un po' diversa di quella che è la citizen science che infatti mi piace chiamare citizen driven science che non sia solo la raccolta di dati o il monitoraggio tramite il coinvolgimento dei cittadini ma che sia un disegno di esperienze di ricerca assieme alla cittadinanza allora in particolare alcune queste sono alcune delle realtà assieme alle quali ho lavorato e alle quali ho contribuito nel mio percorso di studi quindi a partire dall'Italia e poi a livello europeo e con The Good Scientist con una proiezione a livello globale e ho avuto la fortuna di essere stata selezionata e di aver cominciato questo percorso in The Good Scientist come fondatrice grazie alla selezione di questo progetto nel 2022 dalla fondazione Clinton tra i loro progetti di di impatto e di di servizio alla comunità allora quindi la mia storia è cominciata da progetto biotecnologico un progetto nato a Pisa da studenti scusate mi dovrebbero essere devo cambiare mi sentite perfetto ok ricominciamo ok progetto biotecnologico nato a Pisa da studenti della Normale del Sant'Anna e dell'Università di Pisa per raccontare le biotecnologie mediche e agricole nella nella città di Pisa quindi per strada con con verso verso i cittadini mi aveva mi avevano particolarmente stupito in quel momento i numeri dei ragazzi tra appunto triennale e magistrale che eravamo riusciti a coinvolgere nei gruppi whatsapp che avevamo realizzato per cercare volontari per il progetto con più di un centinaio di studenti che si erano aggiunti con il desiderio forte quindi di poter raccontare i propri studi alla cittadinanza un tipo di esperienza che spesso manca direi negli studi delle biotecnologie che spesso che spesso sono ancora legate a scetticismi da parte del pubblico e quindi un desiderio forte di raccontare la scienza in particolare mi ero avevo cominciato a riflettere su come essere giovani nella scienza ci portasse ad essere comunicatori potenzialmente migliori verso la cittadinanza per poterci mettere a livello dei cittadini e anche poter dichiarare di essere disposti ad ascoltare eventuali dubbi o preoccupazioni relative a queste tecnologie non solo ma anche che essere al contempo giovani scienziati anche parte della nuova generazione sempre più appunto coinvolta nei temi della crisi climatica ci portasse anche ad essere portatori di interesse distinti rispetto alla tradizionale comunità accademica e appunto di interesse potenzialmente insomma per poter partecipare a tavole di dibattito su queste politiche come portatori di interesse indipendenti come giovani generazioni nella scienza da questo è nato anche il mio coinvolgimento con Gene Sprout Initiative a seguito tra l'altro della mia esperienza alla FAO di Roma durante un tirocinio dove mi ero resa conto effettivamente che c'è questa una grande romanda della partecipazione di giovani generazioni anche nei tavoli del dibattito COOP eccetera con Gene Sprout Initiative in particolare quello di cui ci siamo occupati in questi anni è l'informazione relativa alle tecniche di evoluzione assistita quindi nuove biotecnologie e la loro applicazione nell'agricoltura e politiche della scienza Gene Sprout Initiative è nata nel 2019 dopo la decisione della Corte di Giustizia Europea di escludere o di chiarire l'esclusione delle tecniche di evoluzione assistita dall'annex 1b della cosiddetta direttiva OGM vista la mancanza di una storia di utilizzo sicuro tuttavia questo diciamo nelle discussioni relative alle potenzialità di queste biotecnologie agrarie ha portato a rendersi conto della perdita di potenziale opportunità di realizzare culture più sostenibili allora un esempio tra l'altro per connettermi sia ai temi di aria pulita e anche di forestazione è relativo proprio al fatto al tema dell'albero di pioppo che è una cultura estremamente promettente dal punto di vista delle biomasse di grande interesse anche in esperimenti di ricerca in agroforestry per la cattura e poi il sequestro del carbonio tuttavia c'è diciamo un lato negativo che è l'aspetto che in realtà il pioppo è tra le culture che produce isoprene come parte del proprio metabolismo a partire dalle foglie e l'isoprene è un inquinante può favorire anche la creazione di ozono a livello troposferico tuttavia ci sono alcuni studi che sono stati capaci tramite tecniche di evoluzione assistita di diciamo di spegnere l'espressione di isoprene da pioppo e renderlo in questo modo una cultura che può essere utilizzata per il sequestro del carbonio in maniera sicura per quanto riguarda la qualità dell'aria senza queste tecnologie questo tipo di questi tipi di risultati non sarebbero stati possibili che cosa facciamo quindi come jeans product initiative ecco qua vedete il logo il nome dell'associazione aprire un dialogo con il pubblico quindi essere disposti ad ascoltare a riflettere assieme al pubblico alla cittadinanza spesso anche con dibattiti che moderiamo tra diversi tipi di opinioni su queste tecnologie e informare il pubblico qui eravamo a Bruxelles davanti alla sezione centrale due settimane fa per appunto siamo soprattutto giovani dottorandi e postdoc per raccontare alla cittadinanza che cosa ne pensiamo di queste tecnologie come mai dedichiamo i nostri studi a queste tecnologie perché pensiamo possano essere di beneficio per per sì per le sfide che abbiamo davanti a livello climatico ambientale non solo informazione ma anche formazione ad aprile abbiamo avuto l'occasione di riunirci grazie alla campagna Give Jeans a Chance a Bruxelles e portare quasi 70 soprattutto dottorandi di scienze delle piante biologi vegetali a Bruxelles per informarci su come comunicare in maniera efficace con il pubblico e come appunto anche confrontarci con le istituzioni ed essere portatori di interesse informati per quanto riguarda la partecipazione civica a livello di scienziati abbiamo avuto anche l'occasione di essere riconosciuti come portatori di interesse dalla Commissione europea nella loro roadmap per la stesura di nuova legislazione per quanto riguarda queste tecnologie che ha portato alla pubblicazione della proposta legislativa dello scorso 7 luglio 2023 noi abbiamo avuto l'occasione di essere come portatori di interesse coinvolti in più step del processo di scrittura della proposta in particolare in svariate interviste con portatori di interesse e compilazione di questionari di estensivi che riguardassero i rischi benefici di queste tecniche siamo stati presenti di prima persona anche al lancio dell'iniziativa legislativa della Commissione europea al variati forum allo European Food Forum e al Parlamento europeo di Bruxelles per raccontare ai membri del Parlamento europeo di queste tecniche e dei progetti su cui lavoriamo tuttavia questa esperienza a livello delle politiche e di scienza servizio delle politiche mi ha portato anche a riflettere su come ci sia un grandissimo desiderio delle nuove generazioni nella scienza di mettersi a servizio e di comunicare con diversi enti della società civile e di come non ci siano attualmente molte opportunità per ricercatori di diciamo svariate fasce di età o comunque di diversi step di carriera per mettersi a servizio e interagire in maniera diretta con enti della società civile appunto in particolare mi sono anche resa conto di come la comunicazione scientifica cosiddetta tradizionale insomma quella su cui molti scienziati insomma cominciano ad essere investiti non si occupi del trasferimento di tecnologie alla società civile o appunto non si faccia domande dell'utilità dell'applicazione di quello che viene comunicato si occupi soprattutto quindi di spiegare di formare di informare ma non per forza di connettere i risultati della scienza con la cittadinanza e per questo abbiamo riflettuto molto anche sul tema della cooperazione scientifica assieme a comunicazione scientifica e questo è un esempio di un libro che assieme a The Good Scientist con insomma il primo nucleo di volontari abbiamo letto sul quale abbiamo riflettuto che appunto a cui invito a dare un'occhiata per riflettere del ruolo degli scienziati per quanto riguarda la cittadinanza e il coinvolgimento nella politica come informatori disinteressati porta alcune riflessioni molto interessanti allora per questo con The Good Scientist partendo da queste riflessioni abbiamo deciso di realizzare un nuovo modello per la creazione di valore di proporre un nuovo modello per la creazione di valore che risolva appunto i problemi che vediamo dai due lati della scienza e della società da una parte la mancanza di opportunità per scienziati di per ricercatori di svariati field soprattutto i più giovani ricercatori di generare impatto diretto con la propria ricerca e dall'altra parte la necessità urgente di trasferire conoscenze e tecnologie in contesti locali e in realtà della società civile connessi appunto a problemi a problemi locali come vogliamo farlo tramite piattaforme virtuali stiamo lavorando in questo momento alla creazione di due piattaforme uno è un mercato di progetti di impatto sociale che provengono quindi da associazioni della società civile che cercano scienziati con cui collaborare i ricercatori a partire da tesisti magistrali e fino appunto ricercatori senior e poi una piattaforma di matchmaking per permettere a cittadini e organizzazioni della società civile di cercare di 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 cercare di connettersi in maniera diretta con ricercatori e scienziati che possano dare consulenze pro bono di tipo di tipo gratuito come vogliamo farlo tra l'altro anche utilizzando l'intelligenza artificiale per questo nel team abbiamo due software developers il vantaggio dell'intelligenza artificiale in questo progetto di connessione tra due mondi che spesso si toccano troppo poco secondo noi è stimolare la creazione di connessioni innovative tra ambiti scientifici tramite un tipo di matchmaking automatizzato nel network di professionisti che stiamo raccogliendo cosa facciamo anche raccontiamo collezioniamo storie di collaborazione tra scienze e società in realtà abbiamo fatto partire da poco un blog newsletter che trovate anche che trovate su LinkedIn che si intitola disfare la torre d'avorio undoing the ivory tower e invitiamo in particolare chiunque a mandarci le vostre storie di collaborazione con scienziati se siete cittadini in organizzazione della società civile oppure di collaborazione con stakeholder locali se fate parte della comunità accademica uno dei primi temi che abbiamo toccato è quello del cambiamento del gergo relativo alla tematica delle culture orfane a favore dell'espressione culture indigene e di come questo cambiamento possa cambiare anche le pratiche scientifiche e il tipo di approccio che gli scienziati hanno allo studio di queste culture a livello locale questo è il team di volontari che insomma con cui ho il piacere di lavorare che si sono appassionati al progetto e siamo siamo basati in sei diversi paesi europei in Messico in California quindi un team estremamente diverso e credo che si possano realizzare progetti veramente innovativi solo con un gruppo che sia realmente diverso allora come partecipare qua se volete potete scannerizzare un codice QR con alcune delle opportunità tra cui unirvi al team di volontari pre-registrarvi come The Good Scientist nelle nostre piattaforme oppure inviarci le vostre storie per il nostro blog e infine qui ci sono alcuni contatti miei personali o dell'associazione se avete desiderio di continuare questa conversazione in seguito grazie mille grazie dottoressa insomma ci fa molto piacere il suo intervento proprio l'abbiamo voluta perché la sua è una pratica attiva della scienza dei cittadini di cui parlavamo ne siamo appunto per questo ci fa piacere vedere appunto come un team così variegato prismatico anche delle attività così giovane abbia voglia veramente di sperimentare di mettersi in gioco e di apportare un contributo nuovo appunto alla scienza la divulgazione di una serie di saperi importanti e sono contenta anche che abbia citato un uso intelligente dell'intelligenza artificiale ecco uscendo fuori dalla narrazione a proposito delle narrazioni sclerotizzate e spesso impaurenti perdonatemi questo termine improprio ed inesistente ma è così quindi veramente grazie grazie davvero per il suo contributo e io prima di salutarvi volevo sapere se c'è qualcuno che vuol dire qualche altra cosa volete confrontarvi tra voi parlare un pochino oppure ci salutiamo ma ovviamente usciamo tutti quanti molto arricchiti da questo incontro che credo sia stato uno dei più belli organizzati nell'ambito dell'osservatorio se posso o vorrei solo fare un'osservazione l'ho fatto anche in parte sulla chat come dire sono istruzioni per l'uso nel senso che da tutti gli interventi che sono che sono emersi vengono fuori indicazioni abbastanza chiare rispetto alla problematica del nostro paese per la qualità dell'aria è in corso il trilogo cioè il confronto fra Parlamento Europeo Consiglio anzi Commissione Parlamento e Consiglio Europeo sulla nuova direttiva della qualità dell'aria che per l'appunto dovrebbe fare quello che diceva giustamente Caldera cioè il testo uscito dal Parlamento Europeo l'altra settimana indica il 2035 l'allineamento ai valori raccomandati dall'OMS per non avere le morti premature che diceva che sono centinaia di migliaia e tanto per dare un numero perché lo vedevo proprio ieri nella città di Milano sono più di 50 ogni 100.000 abitanti all'anno solo per l'esposizione all'abbiossido d'azoto tanto per dirne una nella chat che ho messo un link che vi potete divertire andare a vedere la situazione anche delle singole città delle singole province italiane e dicevo nel trilogo il nostro paese diciamo nell'espressione di parere da parte del Consiglio Europeo l'Italia è uno di quei paesi insieme a alcuni dei paesi dell'est che si sta battendo per far sì che questi limiti siano edulcorati il più possibile ecco io credo che la comunità scientifica le persone che hanno partecipato in qualche modo fanno parte di tutto e si devono battere nell'opinione pubblica in tutti i luoghi che hanno davanti per far sì che il nostro paese non sia veramente l'ultimo e il più retrivo dei 27 dell'Unione Europea perché dicevo prima sentivo ieri un politico che faceva una via reazione al telegiornale non perché è un problema ideologico ma perché è un problema di evitare le morti premature che non sono un'invenzione dell'Agenzia Europea ma sono un dato di fatto scusate l'ultimo sì anche io volevo aggiungere una cosa se posso mi collego un attimo a Marco no velocemente mi ha stimolato l'intervento di Marco per dire che la strategia europea dentro la quale ci sta la direttiva sull'imprimamento dell'area è una strategia che dal mio punto di vista spero venga portata avanti anche nei prossimi e nella prossima legislatura europea che è quella del Green Deal laddove si va a individuare tutti a fare delle politiche europee che aggrediscono tutti i fattori le problematiche ambientali che causano appunto problematiche sulla salute è un pacchetto dentro al quale ci sta la direttiva sull'inquinamento atmosferico sulla qualità dell'aria che citava Marco ma dentro al quale ci sta anche la direttiva sul restauro degli ambienti naturali la direttiva che va in qualche modo ad aumentare il sostegno europeo l'agricoltura biologica sostenibile ci sta la direttiva per la diminuzione dell'uso dei fitofarmaci meglio conosciuti come pesticidi cioè rafforzo il ragionamento di Marco dicendo che la direttiva della qualità dell'aria sta in una cornice complessiva una strategia complessiva che vuol portare il nostro continente a essere tra i il primo di fatto tra i grandi paesi del mondo a guardare appunto all'impatto alla 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 diminuzione degli effetti dei cambiamenti climatici alla neutralità climatica scusate non mi veniva il termine dentro al quale ci sta evidentemente da nodale la direttiva che citava Marco però non si può affrontare il tema se non con una strategia è quello che ha fatto secondo me in maniera molto intelligente e positiva il mandato di Ursula von der Leyen in questi cinque anni nonostante le resistenze di pezzi di parlamentari europei e di pezzi di stati tra cui oggi anche purtroppo il nostro grazie sono stati due interventi sicuramente a completamento importante perché vedi come si vengono a come ogni intervento stimola l'altro quindi è questo quello che vogliamo creare anche proprio per situarci all'interno di un discorso che abbiamo detto che è quello appunto di una costruzione consapevole che può avvenire anche attraverso incontri di questo tipo penso quindi grazie per chi ci sta aiutando nella divulgazione a voi che avete partecipato e come osservatorio continueremo appunto a svolgere tutta una serie di queste attività stiamo lavorando anche sui podcast e quindi vorremmo coinvolgervi ecco sicuramente anche per le prossime in prossime occasioni sarà un piacere se vorrete ancora essere con noi quindi grazie grazie ancora a tutti e grazie alla mia collega Vera che è stata una spalla importante e anzi una protagonista e ringrazio tutti i nostri relatori al prossimo appuntamento quindi vi scriverò ancora grazie a te e a voi per questo incontro grazie arrivederci arrivederci grazie mille buona serata